Dopo aver letto gli atti d'indagine i fatti appaiono addirittura ancora più gravi. Devo dire che i carabinieri del nucleo operativo di Foggia hanno svolto un ottimo lavoro raccogliendo delle prove schiaccianti a carico di queste cosiddette maestre. Esistono dei lunghi filmati che sono assolutamente chiari della crudeltà di queste soggette nei confronti di bambini di 3-4 anni per episodi numerosissimi. Quel che ancora una volta non mi spiego è come mai per fatti così gravi sia stata decisa l'adozione di una misura cautelare lievissima come la sospensione dalla funzione di maestra d'asilo, asilo pubblico, lo sottolineo ancora una volta, la sospensione per una durata di tre mesi per l'indagata con la posizione più grave e di un solo mese per le altre. Mi sembra una misura del tutto inadeguata alla gravità dei fatti. Sì, spero almeno che si vada al processo prima possibile per garantire a questi bambini e ai loro genitori almeno una giustizia in tempi ragionevoli.